... Noi siamo di Teramo, ma non conoscevamo questo posto. Siamo arrivati accanto, convinti che il passaggio era chiuso. Invece poi abbiamo conosciuto Fabio e Sandra e insomma è stata un'esperienza bellissima. Siamo riusciti ad arrivare sotto la cascata e l'acqua è bellissima, ma ne vale veramente la pena. Soprattutto un'esperienza unica. Per arrivare alle cascate la strada non è molta, però la salita si fa sentire. Noi! 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 Noi!